Quest'oggi ho il compito di testimoniare il lavoro che appunto svolgiamo nell'Equipa Apprendimento da un po' di anni. Lavoro che condivido con un buon numero di colleghi del Minotauro. Come dice Laura, oggi le problematiche di apprendimento sono in aumento e è un dato il fatto che molti insegnanti si lamentano di ragazzi che sempre più faticano a tenere apprendimenti e prestazioni scolastiche adeguate e genitori che sempre più si rivolgono allo psicologo per un aiuto in questo campo. È un problema particolarmente complesso tentare di dare una definizione esaustiva di tutte le problematiche che si possono incontrare decidendo di occuparsi di problematiche di apprendimento. Perché è un termine generico che in realtà poi al suo interno chiede di dover pensare a moltissimi profili clinici e moltissime questioni di disagio, molto diverse tra di loro. Per comodità di confronto oggi con voi, terrei a mente tre grandi macro-categorie mi riferisco ai ragazzi che presentano una scarsa dotazione intellettiva quindi per intenderci un quoziente intellettivo sotto norma un'altra categoria è quella dei cosiddetti disturbi specifici e quindi con un quoziente invece nella norma, se non superiore e la pratica, come dire, la totale dovrebbe teoricamente assenza di problematiche emotive affettive mentre terza categoria possiamo pensare a delle difficoltà di apprendimento in soggetti in cui non è riscontrabile un disturbo specifico e le tematiche emotive affettive tendono invece ad essere prevalenti come questioni che in qualche modo appaiono immediatamente nel racconto della fatica di studiare, dell'impossibilità di studiare. Si tratta di tre definizioni molto grezze poco, per certi versi anche, come dire, un po' grossolane anzi molto grossolane perché in realtà a volte diventa importante poter distinguere quello che è un deficit cognitivo in senso stretto da quello che per esempio è invece il risultato di un'inibizione a pensare anche nei vari gradi anche fino ad arrivare a gradi molto gravi sono due situazioni che presentano un comportamento scolastico e un rapporto con la conoscenza sintomatologicamente parlando abbastanza simili in realtà distinguere tra le due posizioni diventa cruciale perché sono molto differenti gli obiettivi che ci possiamo porre come clinici nel lavoro con questi soggetti e anche le metodologie che possiamo mettere in campo si differenziano molto nelle due situazioni altro elemento di problematicità è che come dire, l'assenza di problematiche emotivo-affettive nei disturbi specifici è più semplice da dichiarare idealmente che non poi da ritrovare nella pratica e nel lavoro con i ragazzi soprattutto se pensiamo alle diagnosi fatte in tarda età scolare quindi per esempio disturbi specifici che vengono diagnosticati nel corso della scuola superiore allora può essere molto complicato a fronte di molti errori e quindi di una scarsa prestazione nelle competenze di scrittura, di lettura capire in prima battuta se stiamo parlando degli effetti di un disturbo specifico congenito o se invece stiamo parlando degli effetti di una scolarizzazione molto difficile fino addirittura a arrivare a una mancata scolarizzazione quindi l'elevato numero di errori nella test specifico per esempio di comprensione o di lettura debba essere visto come l'estrema, più florida la espressione di un ragazzino che si è tolto dal ruolo di studente in tempi molto precoci a volte nei primissimi anni degli alimentari e di conseguenza poi quello che incontriamo noi a 15-16 anni è un ragazzo formalmente iscritto alla scuola superiore ma che di fatto non ha acquisito i termini e le competenze di base per poter leggere come i suoi coetanei l'approccio evolutivo per noi è stata un'occasione molto importante quando abbiamo deciso di occuparci di disturbi di apprendimento perché consente di dare alla problematica una dimensione complessiva rendendo evidente come la comprensione del fenomeno richieda una lettura complessa in cui ci sono vari fattori che sono con fattori soggettivi di crescita individuale del soggetto fattori di contesto le questioni scolastiche per esempio le questioni relazionali allora non è possibile comprendere realisticamente di che cosa ci sta parlando il ragazzo che non sta andando bene a scuola non riesce a studiare se non abbiamo una mappa articolata dei fattori che entrano in gioco nelle competenze di apprendimento e mi riferisco per esempio alla questione nel contesto dico per esempio alla questione della capacità di inserirsi positivamente all'interno di un gruppo classe se un ragazzo non è ben inserito in un gruppo classe è possibile che produca un disagio o un sintomo in quell'area se la relazione con l'insegnante non è sufficientemente positiva, adeguata, rifornente anche in questo caso è possibile sviluppare un disagio e mettere sintomi in quel disturbo avere in mente come funziona oggi la scuola e come in qualche modo dialoga con i nuovi bisogni delle nuove generazioni di ragazzi che ormai sono tutti nati dentro una logica digitale e poi vedremo meglio con il dottor Lancini anche questo chiede di avere in mente una tematica che può spiegare alcune questioni ci sono aspetti non così chiari oggi almeno a noi come gruppo di lavoro del perché si stia verificando questo aumento di problematiche nel senso che non è completamente chiaro perché queste nuove generazioni di ragazze abbiano deciso di utilizzare la scuola e il mondo della conoscenza per emettere un disagio che è un disagio di crescita da un certo punto di vista noi possiamo pensare che molti di loro in realtà stanno testimoniando con le loro difficoltà a studiare un problema nel percorso di separazione e individuazione e quindi possiamo immaginare che il non riuscire a studiare il non riuscire ad imparare ha a che fare con una sorta di interferenza tra compiti evolutivi dati per età e compiti scolastici dati e dalle caratteristiche della scuola di oggi dati dal contesto sociale e dalle aspettative possiamo pensare che c'è un'interferenza non sono completamente chiari i motivi per cui tanti ragazzi scelgono questa 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 quest'area sappiamo altre cose per fortuna sappiamo che la maturazione cerebrale in preadolescenza è un compito che in qualche modo mette in scacco alcune competenze scolastiche il passaggio dalla dipendenza all'autonomia mette in scacco certe competenze la dottoressa Bignamini ha già parlato come dire della difficoltà dei preadolescenti di utilizzare il pensiero di mentalizzare certi concetti nell'apprendimento si vede molto bene come a volte il passaggio dall'utilizzare la mente dell'adulto come sistema di appoggio quindi una mente dell'adulto che ti contiene ti aiuta ti dirige ti riduce molte delle paure insite nel processo di apprendimento nel passaggio da questa fase alla fase dell'autonomia che bisogna raggiungere per diventare adulti in questa fase gli adolescenti di oggi a volte si perdono e quindi prevalgono sentimenti e scusate atteggiamenti che sono finalizzate a ridurre il sentimento di precarietà il sentimento di solitudine la paura di non essere adeguati di non farcela e per certi versi da questo punto di vista possiamo pensare che una quota quindi di ragazzi che incontriamo nei nostri studi sono come dire portatori di un dolore quindi una richiesta d'aiuto che parla di una difficoltà a diventare adulti e quindi non tanto come espressione di un disagio di una psicopatologia in sé per sé definita e come dire nominabile un aspetto solo per citare senza pretesa di dire di fare un resoconto esaustivo delle tematiche però lavorando con i ragazzi con questi profili è facile ritrovare appunto l'idea che la conoscenza lo studiare ti può invadere di sentimenti negativi ti fa sentire solo ti fa sentire in difficoltà ti fa sentire piccolo mentre invece in un certo momento è fondamentale sentirsi forti e competenti c'è a volte una fatica a pensarsi limitati e soprattutto si fatica a ipotizzare che esiste una potenza e una capacità che invece si centra anche sulla consapevolezza del limite ma questa è come se fosse una competenza che arriva più tardi prima c'è solo la paura di perdere delle cose che avevi nell'infanzia e che ora rischi di non ritrovare più è possibile a volte come dire anzi purtroppo spesso situazioni in cui le dinamiche relazionali con i genitori con le figure di riferimento sono tali da non garantire un contenimento adeguato cioè sono per esempio relazioni che non spingono non sostengono la capacità esplorativa la capacità di non ho fatto partire il che cosa però me lo dici tu grazie scusami ho fatto la brillante con il timer ma mi sono dimenticata mi avvisate voi grazie dicevo genitori che sono non sono in grado di garantire le spinte esplorative emancipative non sono in grado soprattutto di sostenere l'idea che possa essere una cosa molto positiva e molto buona cambiare e diventare altro da loro da questi genitori e diventare anche qualcosa di diverso da loro per ultimo grande categoria che si può ritrovare in questa dimensione una perdita di contatto con l'idea che l'apprendimento è anche competenza tecnica è anche competenza procedurale e quindi una quota di difficoltà che troviamo in questi ragazzi parla dell'idea che il fallimento la delusione l'errore sia solo ed esclusivamente espressione di una sé fallimentare fragile non competente non rispondente a quelle aspettative come dire iniziali che invece per esempio percepite durante l'infanzia in cui ci si sente più spesso e più facilmente bravi competenti si accontenta tutti le maestre sono solitamente molto contente e così via tutto questo come dire ribadisco senza pretesa di fare un quadro conclusivo però avrebbe l'obiettivo di farvi come dire di fare intravedere la complessità del panorama delle difficoltà di apprendimento quando incontri un ragazzo che va male a scuola da questo punto di vista l'iter diagnostico diventa cruciale diventa un momento imprescindibile del lavoro clinico con i ragazzi e si complessifica molto perché a questo punto a volte il numero di test diventano molto importanti soprattutto nell'ipotesi di valutare anche i disturbi specifici abbiamo un iter diagnostico che dovrebbe prevedere una misurazione dell'intelligenza in quanto tale quindi un test di livello abbiamo i test specifici per gli apprendimenti quindi lettura scrittura e tutta la famiglia dei disturbi specifici abbiamo dei test dobbiamo utilizzare necessariamente dei test che vanno a misurare le capacità di utilizzare un metodo di studio per le questioni che vi dicevo poco fa e poi abbiamo il grande problema di dover capire il significato emotivo e affettivo che la persona con difficoltà di apprendimento ha costruito intorno alla sua difficoltà la sua propria difficoltà come la interpreta come se la spiega che motivi si dà del fatto che le cose non vanno come ci si sarebbe potuti attendere per esempio alle scuole elementare allora tutta un'area diagnostica che va a sondare gli aspetti più profondi più emotivi più affettivi delle rappresentazioni del sedi studente della scuola del compito di imparare del futuro e così via iter diagnostico che siccome può snodarsi anche attraverso un lungo percorso e un numero inconsistente di incontri diventa esso stesso un come dire l'avvio del lavoro terapeutico con questi ragazzi perché dobbiamo tenere a mente che spesso sono ragazzi che non sanno raccontare non sanno mettere in parole non sanno descrivere la loro mente come funziona non sanno dire che cosa c'è che non va e quando la mente si inghippa di solito sono situazioni in cui prevalgono meccanismi di evitamento di fuga di ritiro e quindi a domande dirette come diceva la Vignamini quello che ci si trova davanti sono silenzi sono spiegazioni molto stereotipate non sono intelligente mi annoio le cose sono noiose la professoressa spiega male le cose quindi l'iter diagnostico consente in qualche modo di avviare anche una riflessione loro su quello che è la loro esperienza di apprendimento veniamo al trattamento che di fatto come dire inizia con questa prima fase il lavoro con ragazzi con disturbo di apprendimento richiede un po' di fantasia perché non utilizzando e avendo litigato un po' con le parole e con i pensieri ci vengono un po' a fatica a colloquio con lo psicologo i metodi di lavoro più efficaci dal mio punto di vista per l'esperienza che abbiamo accumulato in questi anni devono prevedere un lavoro di rete un lavoro tra istituzioni un lavoro tra professionisti cosa intendo bisogna che il lavoro richieda preveda un fare un qualcosa di concreto da cui partire siano i compiti siano degli scritti dei disegni un qualcosa su cui è possibile incontrare il ragazzo con difficoltà di apprendimento ma che non richieda nessuna o poche competenze che sono quelle che dovremmo teoricamente riattivare e che non funzionano e quindi i nostri psicologi sono impegnati a individuare con questi ragazzi delle azioni che possono in seduta in laboratorio essere indagate esplorate viste percepite e su cui è possibile poi pian piano riattivare un pensiero c'è un'attività clinica individuale c'è un'attività clinica di una relazione individuale con lo psicologo che raccoglie le problematiche presentate dai laboratori e le rielabora le raccoglie e in qualche modo cerca di favorire uno sviluppo e una progressiva ripartenza del percorso di pensiero c'è un lavoro di rete che è cruciale perché bisogna lavorare con gli insegnanti spiegar loro che cosa sta succedendo in studio perché e con quali obiettivi si sta lavorando con quel ragazzo in quel modo e individuare degli obiettivi condivisi e sostenibili di ripresa un ragazzo che va male a scuola ha bisogno di sentire che ce la può fare e che quindi ci sono degli insegnanti che lo valuteranno con dei tempi che sono adeguati e pertinenti con quel percorso di ripresa che si sta svolgendo i nostri psicologi vanno nelle scuole a parlare con gli insegnanti concordare le linee guida che danno coerenza e tenuta al progetto se pensate che i ragazzi spesso come dire desertano disertano il ruolo di studente per paura perché sopraffatti dal dolore di perdersi di essere soli di essere abbandonati già questo è un fattore di cura il fatto di vedere degli adulti che di concerto si allenano per dare quello spazio protetto in cui ci si può rimettere in pista altro lavoro cruciale è quello con i genitori non si riesce per quel fattore di cui vi accennavo prima cioè a volte la mancanza nel ruolo genitoriale di quella funzione d'appoggio e di sostegno al processo di separazione e individuazione lavorare con gli insegnanti spesso è la chiave di volta di tutto il gioco perché nell'immagine e nelle rappresentazioni dei genitori di un figlio con difficoltà scolastiche si insinua e si radica l'idea rapidamente di un figlio inadeguato incompetente scioperato spaccendato soprattutto se come spesso e più delle volte accade la difficoltà scolastica interviene nel momento di separazione di svincolo dall'infanzia allora abbiamo un bambino bravo educato che studiava che faceva tante cose belle tanti pensierini che aveva vinto anche il primo premio di poesia in quinta elementare e poi improvvisamente diventa un mostro ribadisco sfaccendato che non si occupa più di niente e quindi l'immagine che nei genitori spesso come dire si presenta ed è quella che ti presentano quando ti raccontano del figlio è di uno che è deludente non ce la fa è incapace a volte di fatto se non lavori su questo piano e quindi non aiuti a ricostruire un significato più adeguato al dato di realtà mi viene da dire da un lato ma anche più consapevoli delle loro aspettative tradite del loro sentimento di fatica e i loro timori di trovarsi con un figlio che non risponde alle proprie aspettative il lavoro con i ragazzi è monco e quindi ti trovi di fatto con un percorso che attiva i ragazzi a ripensare a sperare in un nuovo funzionamento mentale ma poi a casa si ritrovano nel ruolo di quelli che sono deludenti e incapaci infine in tutta questa rete le attività laboratoriali hanno anche questo tipo di funzione nel passaggio con gli adulti significativi c'è un fare che era quello che ho spiegato prima ma c'è anche un fare verso il mondo esterno verso il mondo sociale quindi il recupero di un ruolo di studente che sia di per sé presentabile che sia piacevole di cui ci si può riappropriare e di cui si può essere orgogliosi i laboratori di studio di un piccolo gruppo hanno anche questo intento grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti